E' quella di inverno, la prima fega che sto raccontando la parola. Guarda qui! E' una passata! Un tirone! Non ci puoi vedere io. Ah, vai per il culo, vai per il culo, vai per il culo, dai! E' una passata! Vincere Marco, Mogliotti, Dasti, occhio adesso, occhio! Ora vediamo. Il secondo posto potrebbe essere... Questo tipo di prosciutto potrebbe essere... Ottimo! Bisogna prendere il foglio, chi ho? Eh? Quell'orrore che hai fatto prima!